Su questa tematica giova a precisare che i dati ci dicono che è successo qualcosa in tema di violenza di genere. Nei primi otto mesi del 2018 infatti evidenziamo che gli arresti compiuti in flagranza di reato sono stati due. Nel 2019 invece, nello stesso periodo di riferimento, gli arresti sono aumentati e sono diventati ben 11. Questo a che cos'è dovuto? È dovuto ad un aumento, ad una maggiore propensione operativa da parte della questura, voluta dal questore di Parma. Con quindi maggiori operatori sul territorio, maggiori volanti, è possibile intervenire con maggiore efficacia. Abbiamo registrato anche un altro aumento, cioè le denunce sport nel 2018, negli otto mesi di cui vi ho parlato, sono state 12. Mentre invece nel 2019, stesso periodo di riferimento, sono state ben 22. Secondo noi questo è dovuto al fatto che siamo stati capaci di imprimere, di dare maggiore fiducia alla cittadinanza. Questo anche perché nel 2018, vi ricorderete, abbiamo incontrato molti cittadini in tutta la città di Parma, ma non solo, ci siamo estesi anche nella provincia, ed erano banchetti informativi proprio sul tema della violenza di genere. Questo anche, gli interventi sono più efficaci anche grazie al fatto che, esprimendo l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, quindi il questore, nel corso degli anni la Polizia di Stato, avendo competenze specifiche in materia di violenza di genere, ha aumentato il suo know-how, maturando un'esperienza sul campo, direi, di diversi anni. Grazie.